Il giugno di campionato per il Teramo che domani contro il Vicenza qui allo stadio Bonolis potrebbe suggellare il cammino che porta alla salvezza. Con una vittoria infatti la squadra di Maurizzi salirebbe a quota 41 punti mettendo in ghiaccio la permanenza in Lega Pro. Una vigilia tutto sommato tranquilla per il Teramo che non avrà De Grazia squalificato. Maurizzi ha parlato questa mattina dopo la rifinitura e ha dato un voto ai suoi sei mesi in bianco-rosso. Poco più della sufficienza. Sei più? No, sei e mezzo. I 41 punti, la salvezza presa, centrata ad alcune giornate dalla fine del campionato sarebbe una grande soddisfazione per la società e per il suo lavoro. No, sollevato no, gratificato sì. Però c'è il mio parcheggiatore sotto casa e ogni tanto dice che ci hanno tutti con te. Poi la settimana dopo che non ci hanno più con te. Abbiamo fatto qualcosa di importante, ma non abbiamo ancora portato a compimento quello che è il nostro obiettivo stagionale che è quello di fare più punti possibili e quello di dare il massimo. Quindi domani io spero, perché poi ci si allena per questo, ci si allena per questo e si sta in pista anche per questo, per creare adrenalina e domani credo che sia una partita importante che possa per il Teramo, Novo e Maurizio, essere una partita molto decisiva, nel senso che si deve programmare indipendentemente dalla partita di domani. Poi se c'è possibilità, siamo tutti felici, se non c'è possibilità, indipendentemente dai contratti, tutti fanno altre scelte da società per prima. Io sono molto felice e molto contento di stare qui e sono molto contento di quello che mi hanno messo a disposizione e quindi credo che possiamo fare, lavorando più anni, che quest'anno abbiamo gettato in questi sei mesi le basi per poter fare un grandissimo campionato il prossimo anno. Sul fronte formazione le indicazioni della seduta di rifinitura hanno confermato quello che si è visto in settimana. Il dubbio era soprattutto a centrocampo, nel ruolo di mezzala sinistra dovrebbe giocare Spinozzi, favorito su Armeno. Davanti invece, squalificato appunto De Grazia, dubbio se ci sarà Giorgio Sparacello per un 3-5-1-1 nel primo caso e 3-5-2 nel secondo. Bene, giocherà Sparacello. Quindi si torna alle due punte, Sparacello e Infantino davanti, proietti ovviamente costruttore di gioco con la linea difensiva che è la solita con Polak, Caidi e Fiordaliso. Noi sappiamo di essere convinti di fare dei risultati, ma sappiamo anche che potremmo fare un percorso migliore di quello che abbiamo fatto nonostante abbiamo fatto un ottimo percorso e quindi è successo in passato che quando si è alzato un po' l'obiettivo che abbiamo parlato di play-off, ma credo che sia più una casualità, nel senso che ho rivisto mille volte e mille volte, esagero sempre. Ho rivisto qualche volta la partita con la Fermana e credo che quella partita rigiocata 100 volte non la potremmo mai perdere.